Dopo il governo Letta, Andrea Orlando continua la sua esperienza anche al governo Renzi, questa volta come Ministro della Giustizia. Tante le aspettative che l'Avvocatura ripone nel nuovo guardasigilli. Auspichiamo i primi segnali positivi, li abbiamo avvertiti e rilevati, che il nuovo Ministro Orlando sappia discostarsi da quella che era stata la linea tracciata dai suoi predecessori e che dando veramente un fattivo riscontro a quelle che sono le istanze di tutti gli operatori della giustizia, avvocati, magistrati e anche personale amministrativo, sappia ascoltare e quindi predisporre una riforma che non serva ad avere magari la prima pagina sul quotidiano, ma che serva veramente a far funzionare la macchina. Siamo consapevoli che questo non sarà facile, ma è l'unico modo che possiamo utilizzare per ridare fiducia ai cittadini, agli investitori e anche a rilanciare l'economia. Le aspettative sono tante inevitabilmente perché veniamo da una stagione non fortunata e da una crisi che sotto tutti gli aspetti è tuttora molto incidente e molto profonda. Noi ci auguriamo e speriamo modo di ritenere che non si tratti delle solite circostanze di avvio di un nuovo governo, ma di una volontà di riprendere un dialogo davvero fattivo. Le premesse riteniamo che ci siano, questo ministro ci ha fatto un'ottima impressione per come ha cominciato a muoversi, per cui siamo fiduciosi che il rapporto possa continuare in modo serio e proficuo, nell'interesse prima di tutto, come sempre, di chi si avvale del sistema della giustizia e poi anche dell'interesse degli operatori e della possibilità di farlo funzionare in modo decoroso.